Quindi stasera cosa fai? Ma non lo so, non saprei proprio stasera Oh ciao ragazzi! Bene 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 Buongiorno a tutti! Gianni Lo Giudice è tornato da voi Buongiorno a tutti! Hai visto? Per me Uopa! I nostri rappresentanti di Uopa a domicilio vanno in giro con questa bellissima cosa ormai io sono Gianni Lo Giudice e quindi non mi vedo molto convinto E' bene come trattare questi personaggi molto davvero Il parrucchiere qua lei diciamo aspetti che le tolgo un pelo qua Gianni Lo Giudice è l'appresentante di Uova a domicilio si allora dunque tenga presente che lei non assomiglio a Paco Loco beh se mi interrompe ancora le do un uovo sulla testa allora le stavo dicendo che siccome effettivamente oggi è bellissimo questo questo Gianni Lo Giudice si è vero alto più alto del solito un po' più differente caspita non è neanche tanto arrabbiato ma infatti più complimenti voglio sentirti guarda occhi azzuti la strega di Halloween forse ti racconta qualche palla ma va bene lo stesso mi accetta lo stesso guarda quasi quasi che fisico hai visto dica 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 lo premiamo quasi qua va bene vedo che avete capito ci è voluto un po' di tempo ma avete capito qualche paio d'anni qualche paio d'anni va bene dai e allora cosa dovete fare è giusto provvediamo ad incoronarla però ne vi chiedo degli occhi eh io mi fido di voi e vi ringrazio già in anticipo e grazie a tutti perché Gianni Lo Giudice la presentata di voto di Giglio finalmente ha trovato la sua collocazione e il suo riconoscimento a parte anche degli amici allegri chiudo gli occhi bellissimo non sbirci non deve sbirciare quanti sono? boh boh qui sento qualcosa eccolo incoronato apra gli occhi il re dei vichinghi eccolo qua e secondo voi io starei bene così? vabbè vabbè ma sicuramente meglio di prima perché almeno un po' la calvizie si maschera e quindi così è così Gianni Lo Giudice rappresentata di uova a domicilio così devo dirlo sì e io sarei l'imperatore? no 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 lei è solo un vichingo non ne sono molto convinto biondo e prestante non ne sono molto convinto arrivederci Gianni stia bene ciao